Un nuovo regolamento europeo per gli effetti brevi che entrerà in vigore tra un paio di anni. Regolamento che prevede un codice unico identificativo per ogni mobile europeo. È quello di cui si è parlato a un convegno generale FIAIP organizzato a Viareggio. Qual è lo scopo? Quello è lo scopo di eliminare il sommerso, eliminare gli abusivi e rendere il mercato lecito e garante anche da un punto di vista legittimo e da un punto di vista fiscale. Noi abbiamo sempre combattuto per la sicurezza e per la legalità del mercato immobiliare attraverso noi e comunque nell'interesse dello Stato italiano. A spaventare gli operatori nel settore, eventuali possibili restrizioni di effetti brevi, messa in atto dai comuni. Quello che auspichiamo come confedilizia è che non si vada nella direzione di una maggior restrizione, quindi norme restrittive di questo tipo di locazione, perché sappiamo e le statistiche, i dati lo rilevano univocamente, la locazione breve porta ricchezza, porta indotto, apporta una buona parte del PIL nazionale, oltre il 10%, quindi è opportuno che questa forma di locazione sia incentivata e non ostacolata. Che succede quando viene eliminata la possibilità di fare un affitto breve? Allora, per la città, la città sicuramente si impoverisce, come dicevo prima, e molte volte si incolpano gli affitti brevi di un fenomeno a cui tutti assistiamo, quello dello spopolamento dei centri storici. In realtà la locazione breve non è la causa di questo spopolamento, lo spopolamento deriva da altri motivi, quali appunto i servizi, i collegamenti, diciamo la vivibilità per le famiglie del centro storico. E a conferma di questo vediamo che, per esempio, nelle grandi città, penso anche a New York, dove è stata introdotta una norma fortemente limitativa delle locazioni brevi, i prezzi delle camere di albergo sono schizzati alle stelle. Quindi, ecco, qual è il vero motivo che si vuole perseguire con questa legislazione da più parti invocata, restrittiva, punitiva nei confronti delle locazioni brevi? Parrebbe che fosse semplicemente quella di favorire il settore alberghiero. Perché altri fondamenti economici, sinceramente, non ci sono. La soluzione al problema affitti brevi, quindi, qual è? Non è quella di limitare e di creare regolamenti che vanno a ostacolare chi vuole affittare o prendere una casa in affitto. La soluzione è cercare di gestire meglio tutti i patrimoni e fare in modo che ci sia sul mercato un numero crescente di appartamenti che siano quindi a disposizione anche per le persone che normalmente vogliono abitare l'appartamento per viverci. E questo si può fare solo e soltanto con un piano d'azione che è ampio respiro, che prende in esame anche, per esempio, i contenitori non utilizzati, che va a riutilizzare e trasformare, per esempio, le vecchie caserme o anche tutti gli uffici che in questo momento non vengono utilizzati, o gli immobili. Andando anche a premiare l'investitore che tende a edificare qualche metro in più per poi destinarlo alla locazione che sia breve o che sia lunga e indifferente, perché se avremo le persone che possono andare in affitto in un'abitazione, avremo comunque anche risolto parte di questo fenomeno che riguarda sia le locazioni brevi che le locazioni ordinarie. Per questo noi chiediamo una completa riforma della normativa sulle locazioni, perché di fatto non è soltanto con mettere i paletti come aveva fatto su Firenze e poi è stato bocciato da tale e poi eventualmente lo sta rappresentando la nuova sindaca. ma quello di prendere in esame tutto il fenomeno e far sì che chi vuole un appartamento in affitto per la propria famiglia possa trovare l'appartamento facilmente, mentre ora come ora chi vuole affittare l'appartamento è costretto a affittarlo per periodi brevi, perché perlomeno può sapere quando riprende il suo appartamento, l'ha già riscosso, l'appartamento è tenuto sempre bene perché in una notte o due è difficile creare danni e questo è uno dei tanti motivi per cui chi si rivolge alla locazione breve piuttosto a locazione lunga sceglie di farlo liberamente, ma noi pensiamo che sia quasi costretto a farlo perché altrimenti si ritrova la casa che è occupata dall'inquilino che non va via per scadenza di contratto, si trova a pagare delle imposte anche se l'inquilino non gli paga l'affitto deve comunque pagare lo stesso, si trova a dover gestire una locazione senza sapere quando ne rientra in possesso. Se ci fosse una riforma nel mercato che fosse un po' più ampia, un po' più disponibile e fossero immessi sul mercato tutti quelli spazi che in questo momento non vengono utilizzati per questo uso, probabilmente avremo una risposta migliore perché sta cercando una casa in affitto, che sia breve o che sia lungo.